amici del campionato juniors appassionati del risultato san lorenzo un caloroso benvenuto a tutti e più un'apertura sulla sinistra dove c'è giannusa supera un avversario ancora giannusa conclusione parata le città di cinesi mentre comincia a soffiare anche un certo vento occhio alle traiettorie alte pallone messo dentro marra la smanaccia in qualche modo pallone messo in cucinella cercare direttamente lo specchio della porta di ritorno per il numero due bello il controllo di affronti che poi supera due uomini ancora fronti entra in area di rigore pensa anche al tiro trova il muro però stare attento a non lasciare scoperto il reparto difensivo sino mette in mezzo il colpo con la testa è il gol del risultato san lorenzo 1 a 0 loris spina da calcio d'angolo controlla con il pezzo la tia ancora lori spina supera un avversario può mettere in mezzo un pallone spina colpo basso verso sino il gol del risultato san lorenzo raddoppia con federico sino bella la giocata di spina che te giù spina e prova a partire in contropiede c'è anche alfano avanti scivola montoro che non riesce ad accompagnare e quindi ancora spina viene recuperato da un avversario ma è più veloce il numero 9 del risultato anche entra adesso in aria prova ad allungare ancora spina che mette in mezzo per alfano salvataggio sulla linea per esempio con una bella parata su un calcio di punizione di riflesso intanto ci prova giannusa che trova la traversa prova a sfondare con la testa tiene ancora il pallone il numero 4 del città dei cinesi che poi viene atterrato non c'è fallo secondo il direttore di gara episodio dubbio ma si continua a giocare con palazzolo che calcia verso la porta e manca di pochissimo il dal difensore del risultato san lorenzo conclusione ancora verso la porta simone marra si impegna su un pallone che stava diventando velenoso di aiata sinistra anticipato a fronti c'è montoro che prende bene posizione alberto montoro ancora prova a far passare il pallone da fronti grande la giocata di alberto montoro che può calciare da lì e trova un gol pazzesco alberto montoro danza in mezzo a 3 e la mette nel 7 una grande realizzazione di alberto montoro che va ad abbracciare mister vincenzo saitta 3 a 0 per il risultato san lorenzo gioco per i ragazzi del risultato san lorenzo della juniores risultato san lorenzo che ancora attacca con l'opriore spina tocco di ritorno ancora per l'opriore che mette in mezzo alessio alfano trova finalmente il gol che aveva inseguito per tutta la partita il gol di alfano dopo una triangolazione pazzesca cinisi alfano recupera palla l'imbucata verso girgenti che ha il pallone la sterzata di girgenti che calcia vitale allontana e buona ancora per il numero 20 che tenta ancora la sterzata poteva tirare col bancino il risultato sembrava poter toccare il pallone con la mano qui passa bene in mezzo a due trova girgenti e può andare al tiro girgenti conclusione alta